Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo sulle skyboards per trollare decisamente con una armatura particolare Questa è la nostra armatura in ossidiana, ovviamente fa... si ho sbagliato a cliccare il pulsante Comunque è fatta ovviamente con la skin che significa che è una cosa che abbiamo addosso Ora non utilizzerò armature perché voglio che si veda appunto questa d'ossidiana Che è figa e molto figa secondo me, le spade le prenderei tutte e due, prenderei anche la hobblestone Prendere questo e questo, no vabbè una spada e cazzo facciamo con due spade Non abbiamo piccone, non abbiamo assolutamente niente, non abbiamo neanche legno, non è proprio proprio il massimo come inizio Però dovremmo andare al centro probabilmente per fare una cosa carina Ma io stavo pensando a enderpearl quindi fanculo delle cose, cioè hip Ok perfetto, iniziamo a prendere roba, c'è uno, c'è uno, c'è uno Che non m'ha visto, che non m'ha visto, che non m'ha visto, che non m'ha visto, posso spammare? Cazzo è vero si può spammare qua, siamo nei server E io perché ancora non sono abituato a spammare male Ok va bene ho capito Seconda partita che proviamo a fare, ma guardate che cazzo di figata che è quel coso là Ma quanto è figo Ok devo chiudere la finestra la prossima partita perché c'è una luce che dà veramente veramente fastidio Ma che figata, no gas è un botto Ok andiamoci a prendere subito i materiali, è diventato subito giorno il che è tanto Ok C'è un sacco di roba Ok il mio equipaggiamento è pressoché questo Non è underpearl per fuggire, non ho nulla per praticamente fuggirmene Devo fare un ponte, so che sarà problematico fare un ponte perché le possibilità di morire sono elevatissime Ma fotte sega, siamo qua per giocare malissimo e quindi giochiamo a cazzo di cane Ci facciamo sto ponticello Se mi potessi sbrigare, torniamo indietro e questi mi massacrano Non ho neanche cibo Il punto è ok che sono arrivato sano e salvo e va bene Ma io non so neanche giocare a skywars, cioè non son capace E mi tocca giocare con la difficoltà aumentata perché non c'ho l'armatura Non posso utilizzare armature Dato che devo far vedere la skin Che è attualmente Oh vedi che figata Cioè guarda qua la roba che avevamo Io le prendo le armature per non farle prendere agli altri essenzialmente E questo è il senso del mio lavoro Accetta prendo questo Io poi prendo tutto Rush Razio tutto Ho preso un sacco di roba Avrei la possibilità di farmi l'armatura come si deve Però a fotte sega Accendino figa mi serve Fimbo Oh no, no, è porca miseria Ma come cazzo mi ha ucciso questo? Bavoso No ma vi voglio far vedere la figata di roba che ci avevamo Quattro blocchi di iron Quattro blocchi di iron Clamoroso vi giuro È fotonico Peccato che non ci facciamo granché Ora vediamo di fare qualcosa L'ultima volta C'è in un po' tanto il mio set è completo Mi mancherebbero soltanto delle frecce però Magari aspetto qualcuno che viene qua C'è uno che mi vuole sfrecciare da lì Non ha capito che non mi sfrecci Quel cazzo che mi lascia sfrecciare C'era una cosa lì che ho visto Infatti volevo prendere quella Eccolo qua Guardate la figata della roba che c'è Che io non posso prendere Non posso utilizzare Ah, mostruoso Vediamo anche un sacco di cibo Buono Slime block e tutto il resto che non andremo a utilizzare Questa è figa Perché ha tipo Notebook 3 Se io ti tiro una botta con questo Tu vai giù sicuro Siamo in quattro giocatori Ed ora abbiamo inventarci qualcosa Adesso sfrecciamo questo Guardate Se riesco a farlo Eh, non sono capace Ho spawnato dei polli però La cosa interessante è questa Spero non mi venga a prendere Ah, adesso si massacrano loro di botte Spero che si massacrino E ce n'è uno dall'altra parte Però devo stare attento di qua Perché mi verrà sicuramente a prendere questo Ovviamente io non ho frecce purtroppo Oh Allora c'è stato il refill delle casse E c'è un ragazzo che non crede che io sia davvero free gaming C'è sta sharepress 5 Cazzo sharepress 5 Che figo Questo che è? Flame Ok, stessa cosa di prima Devo stare attento Devo mangiare Io ho paura perché siamo rimasti in tre Questi mi stanno venendo a prendere sicuramente Ah, ce n'è uno lì Qui non c'è un cazzo che mi possa servire Devo stare... Ah, è morto È morto uno Grande Ma palese è morto male È caduto nel vuoto Siamo rimasti in due E adesso l'idea è che lui mi debba venire a prendere Spero Perché io di là non ci vado Almeno che non trovi qualcosa per farlo Almeno che non trovi delle frecce Dato che c'è stato il refill Dei cosi Vistè Che frecce! Ok, perfetto Grande Adesso ci mettiamo un attimo per bene E lo iniziamo a sfrecciare Lo facciamo incazzare Aspettiamo che lui venga da noi E lo massacriamo Sarà una battaglia a forza A son di frecce Perché lui sta tipo lì, no? Adesso lo sfreccio male Rientra E... E... Il punto è come lo vado a prendere E... No, 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 no No, l'ho fatto la cazzata Perché non ha più sharpness Infatti non ha più sharpness Grande free Eh, ma perché cazzo? E... Sì! Sfrecciato E ora... Eh, sì, vabbè, ma... 17, 9 È praticamente impossible Devo andare là Sfrecciato un'altra volta A 16 e 15 Ogni volta che vieni fuori Io sto più alto di te Mi dispiace Ti sfreccio prima Ti sfreccio meglio No, è rientrato E poi sto finendo le frecce Però è quello il problema Attento... Ecco... Cazzo Ok, devo andarlo a prendere Sfrecciato di nuovo 13, 5 Se lo prendo da qui Non lo posso prendere da qui Proprio su Eh, no È troppo... Troppo lungo Eccolo E che cazzo? Perché non lo prendo? Più che altro Io non so se finiscono le frecce No Ho finito le frecce, cazzo Per quanto è lenta sta partita Ho chiuso anche la finestra Tanto il fenomeno non ci viene qua a prendermi E si hanno anche rifilato le casse Quindi... Devo vedere dove lui deve stare Devo stare attento No, per questi non mi servono Posso prendere del cibo Mi servono necessariamente i cosi Vieni, spara 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 Grazie Dammi che mi dai le frecce Mi servono frecce per sfrecciarti male Adesso metto qua dietro Mi prendo frecce Non ne abbiamo Frecce Ne abbiamo Non ne abbiamo Eccezionale Sette Ho sette frecce Possiamo risparargli male Ok Devo andare là davanti Mi serve una cazzo di enderpearl Ma perché non mi date enderpearl? Cioè io non è che vi chiedo tanto Nada Mi sono spostato nell'altra isola Magari prendiamo qualcos'altro Nope Vediamo se ci sono delle chest K No, non ci sono delle chest Avanti Adesso andiamo Avanziamo Dovremmo sfruttare l'effetto sorpresa Cosa che abbiamo praticamente già perso Ma Lui da qua non ci può sfrecciare Perché sta Porca troia Che è successo? Mi hanno dato Botta Mi hanno aggiornato le tue monese Da più 50 Wow Incredibile Ho avuto paura Se fosse tipo una cosa Mostruosa Invece no È andata bene Ancora avanti Lo stiamo raggiungendo Prima di te È finito Ragazzo È finito Sta durando troppo Opposta partita Su Ok Faccia a faccia Face to face Ok Bravo Vai dietro Vediamo se ho Enderpearl Grande Perfetto Adesso abbiamo anche l'effetto sorpresa Per utilizzare Enderpearl E vediamo che cosa si inventa lui Se viene qua addosso Hip Adesso lanciamo l'enderpearl Quando lui non ci vede Sfettiamo l'effetto sorpresa E lui è praticamente morto Hip Grande Mori male Mori male Mori male Mori male Sì Grande Vittoria Eccezionale Eccezionale Abbiamo vinto E soprattutto Abbiamo vinto Senza armatura Con l'armatura In ossidiana Come on Grande Grande partita Va bene ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Spero vi sia piaciuto Siamo riusciti a fare Comprendere l'impresa Abbiamo vinto Io ho vinto Una skywars Senza armatura Dopo dopo tante disavventure Abbiamo vinto senza armatura Con appunto sta armatura qua in Ossidiana Va bene ragazzi penso che per questo video possa essere Tutto vi ringrazio tantissimo per la visione Vi lasciare mi piace se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale se avete fatto Di condividere il video su Facebook Mi raccomando passate in tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo come al solito Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Qui si è radunata tipo una mini Mini persone, mini folla Di perfigente Da quanti siamo? Due, tre, quattro, sono sei, sette persone Che mi hanno riconosciuto Anche se ero camuffato Tra virgolette E' bellissimo perché C'è qualcuno C'è tipo uno che non crede sia io Eccolo qua questo qui Nenad DJ Tipo ci sta continuando a dire fake Va bene, grande